sta per essere distribuito in 130 paesi fra cui gli stati uniti d'america sono qui con noi due dei protagonisti del grandissimo successo gomorra gomorra 2 sono marco d'amore e salvatore esposito non lo so che problema c'è non non ci sono non capisco il problema tu tapas tu tapas 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 ofra tempo aiuta fort Stavamo girando una scena che prevedeva l'incendio di un'autovettura Io e lui eravamo posizionati Che è un vostro hobby Ogni tanto quando non sai cosa fare Ma anche oggi il bagaglio a mano era una tannica di benzina, spazzolino e dentifricio Quindi oramai ci viene facile Dovevamo creare una piccola lingua di benzina Che io avrei acceso con l'accendino Piano piano la lingua arrivava alla macchina E durante il dialogo la macchina lentamente prendeva fuoco Quindi il nostro capo degli effetti speciali ci dice Tutto a posto, non vi preoccupate, ti faccio vedere come si accende Tira l'accendino e parte una fiammata di un metro e mezzo Io non mi fiderei di uno che parla così Ma diciamo che poi abbiamo fatto un barbecue con quella fiammata partita così Grigliata per tutti Mentre consumavamo il dialogo e tutta la truppa era a debita distanza giustamente La macchina è implosa e i vetri sono saltati in aria Ma è successa una cosa particolare Cioè Che noi eravamo praticamente ad un metro e trenta di distanza Dalla macchina Quindi abbiamo scartavetrato Ed eravamo, cioè stavamo recitando Stavamo interpretando la scena Quando poi ad un certo punto oltre i vetri Scoppia il lunotto Che tipo fa un bado Noi a quel punto ci allontaniamo piano piano Tipo i granchi così Però siete andati avanti lo stesso I grandi professionisti fanno così I grandi professionisti Voi cosa guardavate da piccoli? Ma io Beverly Hills Ah wow Dawson Creek Dawson Creek? Yeah I don't wanna win I don't wanna win No, fa impressione però No, fa impressione Jenny Savastano Che tu li immagini Joy ha lasciato doso Io in realtà Io in realtà Facevo il tifo per Joy e Pacey Ah tu eri Joy e Pacey Giusto Brenda o Kelly? Brenda All'amore? Eh sì, l'amore io A me, per dire la verità Piaceva Andrea La cessetta con gli occhiali Non so se ve la ricordate A me piaceva un po' L'intellettualina così Tu cosa guardavi? Eh a me piaceva tanto Willie Smith nel Principe di Belen Ah beh, capolavoro Capolavoro No, anch'io sognavo di essere Willie Cioè mi piaceva un po' i vestiti Io no Non sognavo di essere Willie Lo zio? No Perché era calvo? No Zucchino? No, io sognavo di essere Carlton Giura Ma come puoi ambire a essere Carlton? Eh ma perché io e lui avevamo un sogno in comune Che era? Che era Tom Jones Cantare e muoversi come lui Ah sì, sei fan anche di lui Perché ti canti e ti muovi come Tom Jones Non mi sono mai accorto Ragazzi mi accennate se ce l'avete Grazie a tutti Oh yeah è No Oh yeah è Oh man Oh yeah è Oh no No Non è unusuale to be loved by anyone But when I see you end in a pass by anyone It's not unusual to see me cry Come here Pina, come here I want to cry